brucia brucia è vero però almeno se l'è giocata e dopo il primo set io ho pensato cavolo ok che Paolini solitamente reagisce sempre ma se Krejcikova per caso dovesse continuare a giocare come ha fatto nel primo set col 90% tra l'altro tra le altre cose ma non è solo quello ma comunque il 90% di prima in campo anche se Paolini dovesse salire di livello però sarà comunque tosta e invece si invertono un po' i ruoli in quel secondo set poi quasi per inerzia il terzo parziale un po' insomma diciamo equilibrato però alla fine anche quella che sbaglia meno vince e tra l'altro non è solo questo perché nel terzo set ha avuto il grande merito Krejcikova di non concedere praticamente nulla al servizio a Paolini tranne che in quell'ultimo game un po' dai sì riuscirà comunque a rimontare Paolini e cavolo no deve annullare ora il match point è finita insomma quel limbo in cui anche noi tifosi ci troviamo in quei momenti non è mai bello è estenuante anzi però alla fine la spunta Krejcikova ma almeno in questa seconda occasione alla seconda finale slam tra l'altro consecutiva Paolini se l'è giocata mentre ricordiamo no a Roland Garros era quasi impossibile infatti Igas Viontek poi soprattutto su terra l'ha spazzata via alla nostra Jasmine invece oggi quanto meno se l'è giocata quindi il mio augurio è se ci dovesse essere un'altra possibilità ok Paolini ora è una delle migliori giocatrici del mondo è il numero 5 del mondo quindi il ranking tra l'altro non mente sta avendo un grandissimo periodo però bisogna comunque sempre utilizzare il condizionale se ci sarà un'altra occasione a livello di finali slam speriamo che sia la volta buona a Roland Garros non te l'ha seguito da giocare per nulla oggi te la sei giocata ma hai perso puntini puntini iscrivetevi campanella mi piace ditemi la vostra qui sotto nei commenti ben ritrovati a tutti brucia però sarebbe stato molto peggio perdere ad esempio due set a zero perché in quel primo set una grandissima Krejcikova e una Paolini che non era non era lei un po' travolta no un po' come era accaduto anche nel primo set della semifinale che non ho commentato tra l'altro perché non ho potuto e quindi lo faccio anche in breve adesso insomma se quella fosse stata la finale penso cioè saremmo morti perché il finale di partita della semifinale fra Paolini e Vekic è un qualcosa da infarto da infarto veramente poi alla fine la spuntata la nostra Jasmine al super tiebreak del terzo set dopo praticamente quasi tre ore il che ci consente di dire che ci consente di affermare anzi che la semifinale fra Paolini e Vekic è stata praticamente la semifinale più lunga a livello femminile della storia di Wimbledon quindi niente male e ripeto avrei scambiato cioè nel senso ok con il seno di voi per il risultato mi direte voi grazie che l'avresti scambiata volentieri quella semifinale con questa finale però da una parte grandi meriti di Paolini ma ti dice bene anche lì perché comunque no punto a punto super tiebreak e la spunti tu oggi si va al terzo set e alla fine perdi insomma non si può sempre vincere ragazzi ma ripeto Krejcikova padrona nel primo set tornando quindi alla finale 90 per cento di prima in campo ma ma gioca gioca bene non scende nemmeno molto a rete ma comunque gioca bene in generale Paolini sotto tono poi va in bagno Paolini e come spesso accade in queste situazioni ma io un po' aspettavo una reazione anche se comunque si poteva temere no quel l'effetto finale l'effetto tensione e invece è proprio quello che secondo me ha sbloccato Paolini perché comunque sotto di un set si è riposato un attimo andata a fare la pausa in bagno si sarà parata allo specchio no come si dice di solito è tornata in campo e cambia tutto l'altra si è un pochino raffreddata tra virgolette per fortuna perché ma anche perché comunque tenere per due set soprattutto quelle percentuali a servizio sarebbe stato veramente incredibile poi riprende a fare molto bene nel terzo set ma almeno in quel secondo set comunque cala sale in tutto Paolini sbaglia molto meno si allungano molto di più gli scambi molto bene molto bene a tenere sotto pressione una Krejcikova che anch'essa però inizia a sbagliare quindi si invertono un po' i ruoli ed è perfetta parità 6-2 a favore della Ceca il primo set 6-2 a favore della Paolini il secondo set terzo set me l'aspettavo equilibrato però poi a lungo andare cosa succede che Krejcikova è bravissima al servizio non concede nulla a Paolini diciamo che quindi i game al servizio di Krejcikova vanno via più spediti e poi in un amen insomma Krejcikova inizia a trovare un sacco di righe brava lei per carità un pochino fortunata perché magari quando è un pezzetto di riga mezza riga c'è sempre la comprenente fortuna però brava brava comunque lei e Paolini subisce il break poi lo conferma il break la Krejcikova brava comunque a vincere il penultimo game Paolini e nell'ultimo game avevo una forte speranza che potesse accadere quello che è accaduto ossia un game combattuto e ci ho sperato anche tanto e per questo mi brucia perché perché ho visto una Krejcikova veramente con il braccino poi in quel game molto molto tesa non muoveva quasi più le gambe ha sbagliato due due rovesci se non erro se non ricordo male per la fretta proprio di chiudere cioè aveva la smagna cavolo sono lì sull'orlo devo chiudere questa partita devo chiudere questa finale ed è il momento in cui sbagli peccato Paolini in quel game solo per una risposta di rovescio che va a rete e che bisognava a tutti i costi mettere in campo poi c'è il punto successivamente da parte di Krejcikova e che poi chiuderà quindi il il match con un gran servizio esterno l'unico l'unico rimpianto in quel game è quel rovescio per Paolini per quanto riguarda Paolini però per il resto insomma brava anche Krejcikova ecco a tenere un andamento molto alto e molto positivo al servizio ripeto speriamo che ricapiterà una situazione simile Paolini ha tutte le carte in regola per far sì che possa tornare in finale quindi speriamo che sia così dal canto di Krejcikova che dire l'avrà aiutata anche la Novotna dall'alto credo insomma perché torna a fare comunque un grande torneo ha battuto ribachina l'altro ieri quindi assolutamente niente male e quindi torna a vincere uno slam dopo dopo un bel po di tempo e quindi comunque brava lei l'unico appunto lo faccio a quelli del box della Krejcikova non mi chiedete chi siano ma delle facce anche abbastanza antipatiche non c'è non so se era anche la rabbia del momento però mi ha fatto questo effetto mi sono cascate antipatici veramente vabbè ma a parte a parte questa cosa qui comunque grandissima brava Jasmine numero 5 al mondo sì da lunedì quindi da dopo domani e volevo dire un'altra cosa vabbè ora credo vabbè forse magari un torneo di preparazione non lo so prima delle olimpiadi però testa alle olimpiadi attenzione e con l'entusiasmo che ha Jasmine cioè è proprio l'entusiasmo da olimpiadi una che ha un atteggiamento del genere comunque molto spesso sorridente la grinta la garra come si dice anche in sudamerica no è proprio l'atteggiamento da olimpiade secondo me quindi forza forza Jasmine e forza azzurri in generale per quanto riguarda gli uomini la finale sarà Djokovic contro Alcaraz ieri ci sono state le semifinali no come sappiamo come abbiamo visto tutti Musetti non fa nemmeno nel complesso una brutta partita tira fuori dei colpi pazzeschi vabbè l'highlight della della giornata della partita è quel colpo di rovescio in corsa proprio incrociato sul quale anche Djokovic non può far altro che applaudire però per il resto torremo a vedere un gran bel Djokovic a questo punto speriamo di vedere un Djokovic ancora migliore in finale per assistere innanzitutto ad una grande partita poi se mi chiedete chi tifo fra i due fra Djokovic e Alcaraz vi dico Djokovic questa volta ma non perché mi stia antipatico Alcaraz assolutamente però tifo Djokovic anche se da amante di Federer pure ma io non non è che sono un tifoso spegatato di uno dell'altro dei big free eh mi piace apprezzarli tutti e tre però c'è un record no che ha Roger in solitario ossia 8 Wimbledon vinti Djokovic ne ha 27 dovesse vincere lo raggiungerebbe quindi allo stesso tempo mi dispiacerebbe un po' quindi entrano in gioco un bel po' un bel po' di situazioni però comunque se devo scegliere fra i due vi dico vi dico Djokovic non so come la pensiate voi ditemi per chi farete il il tifo tornando un attimo a Musetti grande torneo nulla da dire eh e quindi speriamo possa ovviamente continuare così eh ieri ripeto sì si poteva fare meglio in alcune in alcune situazioni però magari giochi anche un po' più contratto in alcune situazioni sia perché hai davanti no un un avversario del calibro di Djokovic sia proprio perché è la semifinale quindi aumenta no la tensione comunque lo porti al tie break nel secondo nel secondo set perdi il Djokovic molto meglio nei momenti importanti ed è quello che fanno i campioni però non è una partita da buttare per Musetti anche se ha perso 3 a 0 assolutamente ci sono stati dei momenti in cui non ha fatto male qui nel complesso non è stata proprio una brutta partita ovvio che Djokovic sia stato superiore come è stato come è cresciuto allo stesso tempo anche Alcaraz che ha battuto 3 a 1 Daniel Medvede quindi questo è ragazzi iscrivetevi campanella mi piace ditemi la vostra qui sotto nei commenti forza azzurri forza ancora Jasmine al prossimo video Alla prossimo video